di riempire un po' l'area di rigore e magari contrastare anche un po' di più la fisicità della difesa del Toro con il solo Simen che si doveva un po' barcamenare tra i due centrali. Grazie. Perché sono due giocatori che per fare quello che hai detto tu dovevamo buttare palle in mezzo. Questa squadra ha caratteristiche per arrivare in un modo diverso. Non volevo intassare l'aria ma volevo arrivare pulito. Per cui ho messo l'Istrom e ho spostato Kvara in mezzo. Però a parte queste cose qui io sono molto contento della squadra perché ha fatto una prestazione maiuscola. Non ho niente da dire. Hanno giocato 96 minuti secondo me di qualità e abbiamo subito molto poco perché abbiamo concesso un'occasione da gol e basta. Creando tantissimo. Repubblica poi Corriere della Sera. Sì eccomi sono qua. Ciao buonasera. Ciao buonasera. Credi che il problema sia il fatto che prendiate sempre gol? Perché anche oggi insomma il Torino è riuscito a segnare. Forse in partite del genere serve magari non prendere gol per portarla a casa. Grazie. Sì sicuramente abbiamo sempre preso gol da quando ci sono io. È una cosa che non mi piace. Come ho già detto prima il tempo è talmente poco che non si riesce a curare diciamo i particolari. Si va per priorità durante l'allenamento perché tra preparazione della partita e scarico del giorno dopo si riducono a un giorno o due. E allora si va per priorità. Però stiamo aggiustando anche questo perché stiamo concedendo meno. Stasera abbiamo concesso veramente poco. Un pizzico di buona sorte perché a Franck è battuto sulla spalla e ha favorito Sanabria. Però se continuiamo così penso che possiamo migliorare anche sotto questo aspetto. Corriere della Sera poi Pianeta Napoli mi pare. Mister buonasera. Buonasera. A livello mentale sono d'accordo con lei. La squadra è parsa in crescita nella prestazione. Forse ha fatto meglio rispetto a partite che ha vinto come quella di domenica. Come si fa a gestire poi la delusione come capito forse anche a Cagliari di vedere sfumare il risultato nonostante la prestazione ottima? E poi come giudica la prova di Zierischi? Ma guarda è chiaro che c'è un po' di delusione perché abbiamo creato tantissimo. La squadra è stata più ordinata. Quando non raggiungi il risultato pieno, visto che noi siamo di rincorsa, un minimo di delusione c'è. Ma io, appena i ragazzi sono rientrati nello spogliatoio, ho detto che questa è la strada giusta e che è difficile non vincere queste partite. Io ci metterò la firma a creare sette occasioni nitide a partita perché sicuramente è a concedere così poco. Perché sicuramente le partite con questo atteggiamento le vinciamo. Quanto riguarda Zierischi ha fatto una buona partita. Quest'avversario tende a non farti giocare perché ti viene a prendere a uomo. Però io sono contento della sua prestazione. Ha fatto bene come il resto della squadra per cui sono felice di aver ritrovato Zierischi. Salve mister, volevo sapere se per lei qualche volta Lindstrom può giocare anche a centrocampo nel ruolo di Mezzala, per intenderci al posto di Zierischi o Traoré. E se può essere un'opzione proprio per Barcellona in cui sarete in emergenza siccome Zierischi e Den Doncher non sono in lista UEFA, Cagliusse non è al meglio, naturalmente vederlo a gara in corsa. Ma come ti dicevo prima è talmente poco, lui potrebbe avere le caratteristiche. E' chiaro che nell'emergenza potrebbe essere un'opzione, però siamo partiti talmente da lontano per dare solidità a questa squadra che anche cambiare modulo sarebbe tornare nella confusione. Lo puoi fare a pochi minuti dalla fine per provare qualcosa di diverso perché la partita non è più tattica, diciamo, nei minuti finali. Però in questo momento la squadra ha bisogno di certezze e non posso stravolgere più di tanto. Di solito il piano B ci deve essere, però il tempo non ci permette di fare questo. Però Lindstrom può avere delle caratteristiche, non abbiamo avuto la possibilità di provare questa opzione. E' chiaro che andiamo in emergenza sotto questo aspetto a Barcellona e potrebbe essere anche una soluzione in corsa. A chiudere Canal Plus. Buonasera, forse è la prima volta che Osimene è un po' sotto tono da quando è tornato dall'Africa. Per carità ci sta perché là c'erano le fatiche della Coppa d'Africa, anzi nel pre-partita Meluso ha detto, il direttore Meluso ha detto che va gestito in questo periodo, è un piccolo carico fisiologico perché lui comunque è un giocatore troppo importante per i Napoli. Guarda, la partita di domenica passata è stata una partita gagliarda anche da parte sua. Va sottolineato che abbiamo giocato quattro partite in dieci giorni contro una della Juve, che è un avversario forte. Di tutti i dati, l'unico dato a sfavore nostro sono state le occasioni da rete. Due occasioni da rete le abbiamo concesse noi con errori individuali perché se noi eravamo pari anche sotto quell'aspetto. Per cui è normale che un giocatore che è stato più di un mese in Coppa d'Africa, con temperatura, alimentazione e tutto il resto, ci può essere un leggero calo, ma io sono soddisfattissimo di lui perché gli chiedo anche cose che non gli chiedevano magari in passato e si sta impegnando molto. Però Cosimena è un giocatore che ti può risolvere la partita anche quando non è al 100%. Grazie e buonanotte.